ciao ciao ben ritrovati nel canale allora oggi cosa facciamo diciamo qualche bigliettino tanto per non perdere abitudine vediamo qualche bigliettino da 2 2 da 2 e scusate 2 da 3 e 1 da 2 tanto non vuol dire se si deve vincere si vince non vuol dire che compriamo molti biglietti abbia probabilità in teoria dovrebbe essere così comunque molte volte non è così allora se dobbiamo vincere vinciamo se la fortuna ci vuole ci vuole e ci fa vincere anche con un biglietto ok allora incominciamo la nostra trattata con una doppia sfida da 2 numero 16 6 e 31 eccolo qua ok buona bisogna a tutti amici vediamo un po cosa ci dice la doppia sfida da 2 ok allora numero 11 18 17 36 e 25 ok primo numero 28 che non abbiamo seguo 43 32 32 e 35 c'è il 36 qua abbiamo il 30 che non c'è 34 34 35 e 36 poi c'è il 37 no 31 niente che non c'è e poi abbiamo 29 niente di fatto ok con i numeri niente vediamo un po l'importo 2 euro 500 euro 100 euro e 100 mila abbiamo 15 15 e 50 tutti diversi non abbiamo neanche due uguali poi sì 100 mila abbiamo uguali il resto tutti diversi ok prima e quindi ho un buon moltissimo stella passiamo e qualche volta fortuna questo numero 44 della serie 20 vediamo un po' tre importi uguali, duecento, quattrocento e quindici, qua abbiamo dieci, tre e cinque, tutti diversi, poi abbiamo tre due volte, duecento due volte e cento una volta, abbiamo quattrocento due volte, tre volte, ok abbiamo preso tre euro, ok ci siamo ripagati il biglietto, sotto non uscirà niente ma noi lo facciamo ugualmente, pentolone, coccinella, carrello, oh no forciera questo, forciere e corna, e c'erano cinque euro, ok forza fortuna vincente con tre euro di questo biglietto, adesso passiamo a numeri fortunati, numero cinque della serie cinquanta, ok vediamo, 45, non c'è, abbiamo 49, eccolo, 12, eccolo, 51, non c'è, abbiamo 28, ultima colonna, abbiamo 76, non lo vedo, abbiamo 43, non c'è, e 63, 62, niente, ho scusato, poi abbiamo 20, niente, 55, eccolo, 39, eccolo qua, 44, eccolo, 24, non c'è, 62, 21, non c'è, e 34, e niente di fatto amici, buglietto, non vincente, ok, allora oggi abbiamo grattato tre bigliettini, abbiamo preso tre euro con il super vostra fortuna, e siamo stati anche fortunati, e se no non si vince proprio niente, ok, intanto vi ringrazio a tutti per la visione, vi raccomando, iscrivetevi, pollice in su, e condividete, e aspettiamo che ci arriva anche il bigliettino più fortunato, intanto stiamo calmi, non ne prendiamo molti, perché tanto è inutile, o prendi molti, o pochi, quando devi vincere vinci, questa è la mia opinione, bene carissimi, vi saluto ancora, vi mando un bacio, un abbraccio, e alla prossima video-video-appuntamento, sposiamo più fortunato, ok, ciao ciao a tutti, un bacio! Ciao a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La spiaggia è piccola. Le ove sono più grandi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.